La situazione così come attualmente non funziona, i servizi alle persone rimangono bloccati, spesso fermi al palo, così come la progettualità che va rimodellata diversamente dal recente passato. Continua il braccio di ferro all'interno del piano di zona ambito territoriale S011, quello che comprende i comuni di Nociara Inferiore, Nociara Superiore, Castel San Giorgio e Rocca Piemonte. Ciò che dicevamo in apertura di servizio è il pensiero, un po' variegato, dei rappresentanti dei tre comuni, non quello capofila. Alla riunione indetta l'altro giorno non hanno partecipato i sindaci ma i loro delegati assessoriali del settore politica e sociali che hanno rimarcato le proprie posizioni. Il comune capofila Nociara Inferiore vuole dare continuità al lavoro effettuato finora pur indicando già un nome diverso per il ruolo di coordinatore rispetto a quello attuale. Gli altri comuni vorrebbero condividere la scelta in modo differente scegliendo i nuovi attori protagonisti per il rilancio dei servizi. Di sicuro le frizioni persistono così come si emince dalle dichiarazioni del sindaco di Castel San Giorgio, l'avvocato Paola Lanzara. Questo piano di zona volente o nolente deve funzionare ed è ferma volontà di questa amministrazione che funzioni. C'è stata l'ennesima riunione che non ci ha trovato soddisfatti però almeno qualcosa inizia a muoversi, iniziano a sviscerarsi i problemi. Quindi il nostro auspicio è che per il prosieguo si sistemi finalmente questa annusa problematica. Cambiando gli attori principali. Io credo che sia necessario un cambio di protagonisti e sia necessario soprattutto un cambio di registro. La forma poi sarà scelta in maniera collegiale, collettanea come abbiamo sempre fatto perché non è una competenza solo mia ma è una competenza di tutti i comuni che fanno parte di questa... Piano di zona o futura azienda? Per noi va bene tutto purché funzioni. Noi siamo disponibili a venire incontro alle esigenze di tutti gli enti. Siamo aperti ad ogni forma di confronto purché però il piano funzioni perché è indispensabile. Grazie. 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 Grazie.